Vendeva alcolici a minori senza verificarne l'età e per questa ragione è stato sanzionato. E' uno degli interventi effettuati nell'area della Movida di Biceglie dall'azione sinergica di Polizia di Stato e Guardia di Finanza nelle ore serali. Una intensificazione dei controlli che si è concentrata in particolare nella zona del porto della città biscelliese dove sono migliaia i giovani provenienti anche dai paesi limitrofi e soprattutto decine i locali presenti. Nel complesso sono stati comunque 12 posti di controllo con l'identificazione di 318 persone. Di queste 12 sono state sanzionate per violazione del codice della strada mentre due le contestazioni nei confronti di soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Diversi invece i controlli effettuati ad esercizi commerciali, una sanzione amministrativa di oltre 600 euro come detto al titolare di un locale sorpreso a vendere alcolici a minori senza verificarne l'età anagrafica. In corso anche accertamenti per verificare la posizione di altri due locali sottoposti a ispezione.